Il numero magico dipende dalla densità dello scaricamento, e cioè per certi versi in un ambiente dove si svolgono delle attività quotidiane, come ad esempio un ufficio, e tutti avessero scaricato l'app Immuni, certamente in quell'ambiente c'è una capacità di tracciamento straordinaria, e quindi non è un numero assoluto che è rilevante, è fondamentale capire in quali contesti, in quale regioni, in quali ambienti, si riesce a raggiungere un numero possibilmente superiore almeno al 30, al 40%, perché sa, uno può dire, lo scaricano 15 milioni, però sono tutti rarefatti in giro per il territorio italiano, non è come se invece l'avessero scaricata, non so, 3 milioni tutti in Lombardia. Allora in quel caso il tracciamento è molto più efficace. Quindi bisogna anche comprendere che l'utilizzo di questa app è utilissima soprattutto in quei luoghi dove c'è un'alta probabilità di contrarre dei contagi. Dottor Gambino, tutti noi diamo una mole considerevole di dati, dati sulla nostra vita, a piattaforme social, a piattaforme di giochi online, a caselle di email, e poi però emerge forte questo problema di tutela della privacy in relazione a immuni. È una preoccupazione fondata? Decisamente no, lo voglio dire davvero con tutta la forza di chi studia da 30 anni questi temi. E cioè, l'app addirittura è una garanzia per la privacy. Considerate cosa succede oggi senza l'app. Vengo a contatto con un soggetto contagiato. A un certo punto questo soggetto contagiato cosa fa? Prende il telefono, chiama la ASL e la ASL gli dice guardi, cerchi di avvertire tutte le persone con cui è stato in contatto per un periodo duraturo. E questo poveretto si mette alla gogna di una cerchia di amici, conoscenti, colleghi di lavoro, perché dovrà dirgli guardate io ho il virus, provate anche voi a verificare se purtroppo involontariamente lo avete contratto anche voi. Con l'app questo non capita più, perché sarebbero semplicemente i cellulari totalmente anonimi con dei codici che immesso dal soggetto contagiato il suo codice nel proprio cellulare, immediatamente il cellulare segnala a tutti gli altri cellulari che sono stati in prossimità del contagiato nei giorni precedenti e quel codice allerta un altro soggetto, un altro cittadino che a quel punto va di corsa a farsi il tampone, senza sapere chi lo potrebbe aver contagiato. Cosa meglio di questo tutela la privacy?